La città dello spazio di Tolosa ha inaugurato l'Unexplorer, la nuova esperienza immersiva che consente ai visitatori di simulare un viaggio sulla Luna in maniera fedele e con le emozioni vissute dagli astronauti. Nelle capsule spaziali è possibile sperimentare l'accelerazione e l'ipergravità sino alla fase di allunaggio. A livello emozioni mi ha piaciuto di aver vissuto fisicamente ma abbiamo delle sensazioni completamente estonanti con la tête che sembra pesata molto lourda. Siamo veramente a peccoli contro il siège, dopo che abbiamo fatto un movimento nella tête abbiamo perduto il nord e il sud, ma non, c'era veramente molto bello. Astronauti veterani e personale della NASA sono a disposizione per istruire gli equipaggi formati dai turisti spaziali. Dicono che si tratta di un'esperienza reale. L'Unexplorer è stata progettata in due anni. L'obiettivo è quello di attrarre 500.000 visitatori l'anno.